mi chiamo domenico caro figlio l'azienda si chiama cerchi e pneumatici f1 facciamo vendita distribuzione di pneumatici cerchi lega accessori per auto in quasi in tutta Europa il nostro obiettivo principale è internet cerchiamo di affrontare un partner perché internet è troppo basso per essere visibile al 100% quindi dobbiamo comunque affidarci ad un partner affidabile che sa come che fa ho scelto Maxfo come partner perché dal primo colloquio mi ha dato felice mi ha proposto quello che io quello che noi volevamo già fare allora Maxfo ci sta praticamente gestendo la sincronizzazione tra il sito tra l'e-commerce ed ebay in più la cosa più importante ci sta praticamente gestendo la sincronizzazione tra i nostri principali fornitori per la visibilità dei prodotti sia sull'e-commerce sia su ebay sia su amazon quanto era Maxfo ci ha portato tanti benefici ci ha risolto tutti i punti critici chiaramente che non potevamo di sopra da soli sarebbe stato quasi impossibile in merito all'evento in merito all'evento di stasera l'organizzazione al troppo sicuramente poi chiaramente dopo tanti anni ho conosciuto i membri di componenti della Maxfo quindi davvero bene grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.